Musica Giovane pestato nella stazione della Circo Unvesuviana, due arresti a Pompei, decine di persone presenti non hanno alzato un dito. Botti conservati in modo pericoloso, sequestrati 250 kg dalla Guardia di Finanza di Avellino. Vandali alla Spina Verde di Benevento, scritte sui muri del Centro di Aiuto alla Vita. Spettacolo teatrale delle detenute del carcere di Benevento, presentazione del libro Orgoio e Pregiudizi della giornalista Tiziana Ferrario, continuo da due giorni, Uniamo le Forze. A Faicchio festeggiamenti in onore di Santa Lucia e favola del Natale. Nuova edizione del Media News, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito dai nostri titoli. A due settimane dal pestaggio shock avvenuto all'interno della stazione della Circo Unvesuviana di Pompei, sono stati arrestati i membri della gang. Due sono minorenni. Un'aggressione immotivata mentre prendeva il treno per casa, vestato a sangue da quattro ragazzini che lo hanno lasciato a terra col volto tumefatto, mentre le decine di persone presenti non hanno alzato un dito. E questa è la storia di Gaetano, 22 anni di Ercolano, vittima di una baby gang a Pompei. Un sabato sera da incubo nei pressi della stazione Circo Unvesuviana di Villa dei Misteri, dove è agito una gang composta da un trentotenne di Bosco Reale, un trentenne di Torri Annunziata e due minorenni, anch'essi torresi per i quali la procura ha previsto l'affidamento ai genitori con probabile destinazione verso una comunità presso cui effettuare il programma di recupero. Arresti domiciliari invece per l'aggressore originario di Bosco Reale, mentre l'altro è stato sottoposto all'obbligo di firma. Gaetano è stato sottoposto ad un intervento per ricomporre una frattura allo zigomo. Il suo volto tumefatto ha fatto il giro del web e ha scatenato l'indignazione sociale, mentre le forze dell'ordine sono entrate in azione visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza e identificando i colpevoli fino a consegnarli alla giustizia. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi del PG e del PM di Torino contro lo spacchettamento dei processi per la morte di 258 persone a causa dell'amianto eterni. I processi rimangono quindi incardinati a Torino, Vercelli, Napoli e Reggio Emilia, confermato anche il declassamento dell'accusa da omicidio doloso in omicidio colposo. Una doppia tragedia in via Spirito Santo ad Eboli, provincia di Salerno, ha colpito una coppia di coniugi. La donna a 73 anni è deceduta a causa della rottura di un'arteria femorale. Il marito cardiopatico di 74 anni, nel vedere la moglie riversa a terra, ha avuto un infarto che non gli ha lasciato scampo. Ammontano a circa 250 chili i 95.000 fuochi d'artificio sequestrati nella giornata di ieri dai militari della Guardia di Finanza di Avellino. Il materiale pirico rinvenuto dai finanzieri del nucleo mobile della compagnia irpina all'interno di un esercizio commerciale del capoluogo era sistemato vicino ad un altro materiale altamente infiammabile. Estendendo il controllo anche al deposito del negozio, i militari hanno rinvenuto ulteriori scatolori di artifici pirotecnici accatastati gli uni sugli altri assieme ad altra merce infiammabile. I finanziari hanno provveduto pertanto al sequestro del materiale al fine di salvaguardare l'incolumità dei clienti e del vicinato. Vandali alla Spina Verde di Benevento, scritte sui muri del Centro di Aiuto alla Vita. L'associazione affidataria della struttura pubblica Replica non ci fermeranno. Sentiamo. Nera sul rosso, una scritta che non lascia libere interpretazioni. Più prati e meno preti, più giardinieri e meno fedeli. Qualcuno non deve aver mandato giù l'affidamento del Centro di Aiuto alla Vita del Rione Libertà di Benevento alla parrocchia. Le scritte sono apparse infatti nella notte tra martedì e mercoledì scorso proprio sulle pareti dell'edificio pubblico. Atti vandalici che non ci spaventano. Noi lavoriamo per la gente del Rione. Due scritte non ci fermeranno, ha commentato il presidente dell'associazione, Carlo Principe. Tengono le distanze dal fenomeno e lo condannano anche gli attivisti di Lappasilo 31 che nel giorno dell'inaugurazione della struttura hanno protestato e occupato la stessa. Stigmatizziamo quanto accaduto, ha dichiarato Pasquale Basile. Il vandalismo non ci appartiene. Noi agiamo alla luce del sole, mettendoci la faccia sempre. Restano le scritte, prova evidente di un gesto di ribellione, di non accettazione della realtà. In un quartiere, la Spina Verde, finito spesso al centro di Lamentele Appelli, per il degrado e lo stato di abbandono in cui versa. È stata dissequestrata in via temporanea su ordine dell'autorità giudiziaria l'aula del liceo Pizzi di Capo a sottosequestro dal maggio 2016 dopo il crollo di parte del soffitto. Una decisione è giunta dopo l'appello lanciato dai genitori degli studenti attraverso una lettera indirizzata dal presidente del Consiglio d'Istituto, da Angelo Doni al procuratore della Repubblica di Santa Maria Capovetere, Maria Antonietta Troncone, nella quale si sollecitava il dissequestro. A Nocera Inferiore, un flash mob tutto natalizio in strada commercianti e residenti di via Siniscalchi. Sentiamo. L'Unione fa la forza e per dimostrarlo, commercianti e residenti di via Siniscalchi a Nocera Inferiore hanno organizzato un flash mob per dare il via alle festività natalizie, oltre che per annunciare l'inizio di una lunga serie di eventi futuri ancora in fase di organizzazione. Tra gli obiettivi anche la costituzione di un'associazione per promuovere manifestazioni che vadano ad animare i vari periodi dell'anno. Abbiamo organizzato un flash mob perché tutti i commercianti, con l'aiuto di tanti residenti facciamo questo balletto per inaugurare le festività natalizie e quindi per cercare di avere un rapporto di collaborazione tra noi commercianti, ma in questo caso c'è anche l'aiuto di tanti residenti. Ci siamo autofinanziati per avere le luci, abbiamo poi fatto richiesta di filodiffusione in caso di animazione e di questo non abbiamo avuto al momento ancora risposte, ma provvederanno penso nei prossimi giorni. Stasera stiamo provvedendo a fare questo flash mob per tutti quanti noi commercianti, ci stanno dando una mano anche i residenti. Credo che questa potrebbe essere un'iniziativa positiva anche per dimostrare la nostra unione. Dopo uno stallo, durato otto mesi e forti tensioni all'interno della maggioranza, tra PD e centristi, appelli di senatori a vita e sindaci di tutta Italia, il biotestamento incassa il via libera definitivo dell'aula di Palazzo Madama e diventa legge dello Stato. La legge che regola il fine vita è stata approvata con 186, 71 contrari e 6 astensioni. Lacrime nell'aula del Senato all'annuncio dell'approvazione della legge sul fine vita, a punto d'arrivo di una battaglia durata anni. Continua Beneventola, due giorni uniamo le forze. Tra gli eventi previsti uno spettacolo teatrale interpretato dalle detenute della casa circondariale del capologo Sanita. Vediamo. In scena sei storie di violenza viste con l'occhio ironico della donna per raccontare la banalità del male. Sul palco del Teatro San Vittorino di Benevento le detenute della casa circondariale della città. Lo spettacolo teatrale Io dormo sola è stato inserito nella due giorni organizzata da Questura, Università del Sagno e Regione Campania per contrastare il fenomeno dilagante della violenza di genere. Una recita da parte del detenuto della casa circondariale di Benevento su temi afferenti alla violenza sulle donne e poi la presentazione del libro di Tiziana Ferrari, giornalista famosissima del TG1 invitata dall'assessore regionale la dottoressa Chiara Marciani che appunto ha risposto a questo invito e che sarà qui presente per dibattere con noi sui temi delle pare opportunità. Uniamo le forze nasce dalla volontà di chiamare a raccolta le forze vive del territorio beneventano momenti di sensibilizzazione mirati soprattutto alle giovani leve sul tema più ampio del rispetto dell'altro e del rispetto della legge una manifestazione che ha visto una partecipazione corale della società civile. Due giorni di sensibilizzazione su un tema così scottante, così attuale nel quale abbiamo cercato di coinvolgere tutte le istituzioni ma anche la parte sana della società, la tantissima parte sana della società beneventana che mi pare già da stamattina abbia risposto in maniera assolutamente corale all'invito. E lo abbiamo sentito nell'ambito della stessa campagna contro la violenza sulle donne la presentazione del libro Orgoio e pregiudizi della giornalista Tiziana Ferrario. Vediamo. Un libro che comincia una mattina a Washington il 21 gennaio del 2017 giorno della marcia storica di un milione di donne contro il presidente Trump e attraversa impresa diretta agli Stati Uniti fino ad arrivare in Italia. Un viaggio ricco di incontri e storie appassionanti, spesso difficili, molte delle quali sconosciute. Un racconto intenso che tiene ferma l'attenzione sui fatti e su cosa resta da fare per raggiungere una reale parità. Orgoio e pregiudizi è il titolo dell'ultimo libro della giornalista e volto noto del Tg1 della RAI Tiziana Ferrario, intervenuta a Benevento nel corso della manifestazione Uniamo le Forze. Il fatto al di là del gioco è anche tanta sostanza perché racconta l'orgoglio di essere donna che io ho visto tra le donne americane perché il libro parte proprio dagli Stati Uniti e pregiudizi che tutte le donne sono costrette a incontrare nel loro percorso ma ricordiamoci anche che i pregiudizi che accompagnano le donne poi accompagnano anche gli uomini quindi la rivoluzione culturale va fatta tutti insieme, uomini e donne perché altrimenti ci dicono gli economisti non ci conviene, questo frena la crescita dei paesi, non avere abbastanza parità quindi è questa la vera svolta. La parità aiuta la crescita economica dei paesi. Una valanga rosa in America dopo l'ammissione anche di tante molestie. La reporter racconta come le donne siano tornate ad alzare la voce chiedendo stesse opportunità di carriera, stessi salari e diritti. Le donne americane hanno deciso di ribellarsi a una situazione che non piaceva più sicuramente Trump è stata la spinta per far rinascere questo orgoglio, questa voglia di dignità e oggi questa valanga rosa non si ferma più. In questo momento le donne denunciano le molestie sessuali ma anche si stanno preparando a fare politica. Ci sono migliaia e migliaia di donne in America che si stanno organizzando perché cercano una rivincita. Ilari non ce l'ha fatta ma loro vogliono riprovarci e lo fanno a tutti i livelli, a quello locale, nelle loro comunità, nelle loro città e poi vedremo cosa succederà l'anno prossimo in autunno quando ci saranno le elezioni di medio termine. Il linguaggio sessista di Trump ha svegliato alcune donne americane, ammette la Ferrario. Il linguaggio sessista, macista e anche volgare di Trump ha risvegliato le donne americane, non tutte ovviamente perché il 53% delle donne bianche ha votato per Trump, però le donne hanno ritrovato questo orgoglio e hanno capito che alcuni diritti che davano per scontati potevano essere a rischio perché non bisogna mai dare niente per scontato. Si possono fare tanti passi indietro e noi li stiamo facendo per esempio perché siamo andati all'ottantaduesimo posto nella classifica mondiale sulla parità, ce lo dice il World Economic Forum. Un libro che aiuta a vedere dove siamo arrivati, storie che diventano un ottimo spunto di riflessione per riaprire un dialogo e affrontare il cammino che rimane, uomini donne insieme. Quindi il messaggio è? È un messaggio che io do non solo alle donne ma anche agli uomini. Io credo che si debba lavorare tantissimo sulle nuove generazioni. È un lavoro che bisogna fare nelle famiglie, nelle scuole, che devono fare le istituzioni. I papà e le mamme devono far crescere le loro figlie consapevoli del loro valore, devono imparare a difendere le loro idee, ad alzare la voce, a seguire le loro passioni e questo libererà anche gli uomini da degli schemi che li tengono prigionieri in un ruolo di macio forte che non deve piangere mai. Bullismo in Campania, 616 casi accertati in un anno, i picchi nelle province di Napoli e Caserta. Sentiamo. Sono stati 616 casi di bullismo accertato nelle scuole campane nell'anno scolastico 2016-2017. Sono i dati della ricerca all'incidenza del bullismo nelle scuole della Campania, voluta dal garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza. Sul campione del 22% sono stati dunque 616 casi conclamati, con picchi più alti nelle province di Napoli e Caserta. Nello specifico nella provincia partenopea sono stati registrati in media tre casi per scuola, con una eccezione per un istituto comprensivo, dove invece purtroppo sono stati 70 casi. Nella provincia di Caserta si registra una media di 2,5 casi per scuola. Si discostano da questa media due istituti, nei quali si sono manifestati 39-90 casi di bullismo. Per il 60% dei docenti il bullismo incide molto sull'andamento dell'attività didattica e sulle relazioni in classe. Il resto del campione ritiene invece che poco o abbastanza. Su base regionale il 28% dei docenti ritiene di non essere in grado di gestire autonomamente il problema. Aumentare la consapevolezza delle famiglie e dei ragazzi, spingere chi è vittima a non provare disagio nel denunciare, monitorare i casi sono alcuni dei metodi per cercare di contrastare il fenomeno, di bloccare il bullismo prima che i ragazzi ne diventino vittime. Tutti ci siamo inebriati dalle grandi opportunità che il web, l'internet dà. Siamo inebriati. Ora siamo in una fase di mutazione generazionale. C'è bisogno in questo momento, soprattutto a tutela dei minorenni, di fermarci e individuare le iniziative e le misure che tendono a tutelare i minori. Continua il mercatino di Natale a Pietrelcina, organizzato da amministrazione comunale Proloco, nell'ambito dello stesso allestimento, sabato 16 dicembre alle ore 18, atteso lo scampanio festoso di Natale, concerto di campane a cura della pontifica Fonderia Marinelli, la più antica fonderia italiana e fra le più antiche del mondo, specializzata nella costruzione di campane. La Fonderia è l'unica sopravvissuta tra le dinastie dei numerosi fondatori di campane di Agnone che da otto secoli si tramanda di padre in figlio quest'arte antica. L'appuntamento dunque nel Parco Colesanti di Pietrelcina, sabato 16 dicembre alle ore 18. A Faicchio invece festeggiamenti in onore di Santa Lucia e Favola del Natale. Ne abbiamo parlato con il sindaco Nino Lombardi. Vediamo. Sindaco, Favola di Natale qui a Faicchio si respira già una bellissima e frizzante aria natalizia, un bellissimo evento che fa parte ed è inserito in un progetto finanziato dalla Regione Campania. Sì, questo è uno degli eventi inseriti in questo progetto finanziato dalla Regione Campania, il POC, e questo evento, la Favola del Natale, l'abbiamo fatto in collaborazione con le parrocchie, le associazioni, in modo particolare con l'Istituto Tecnico Turistico Alberghiera per esaltare la vocazione del nostro territorio. Non a caso vediamo che insieme all'angolo di golosità per i bambini c'è questa degustazione proprio dei prodotti della nostra terra. Questa Favola del Natale in questo borgo splendido vicino al castello Normanno, in questo borgo medievale, vediamo così ben organizzato quanti bambini ha coinvolto e questo anche in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e di questo ne ringrazio anche il Presite. Questo evento, così come tanti altri eventi che caratterizzano l'amministrazione di Faicchio, hanno una parola che si ripete sempre, la ritroviamo sempre, che è collaborazione. Abbiamo visto che oggi, in occasione della Favola del Natale, a Faicchio è stata anche festeggiata Santa Lucia, quindi la collaborazione non soltanto con le altre realtà, quindi la scuola e l'Istituto per il Turismo, ma anche con le parrocchie, come lei diceva. Quindi è stato abbinato il festeggiamento di Santa Lucia a questo evento tutto natalizio. Sì, quest'area di unità si respirava già in estate, nell'occasione dell'incendio del castello, ci ritrovavamo proprio in questa piazza. Poi ha fatto seguito proprio l'unità pastorale, l'ingresso dei nuovi parroci, il mettere insieme le nostre parrocchie e questo facilita e favorisce anche percorsi di collaborazione e di unità negli eventi. Lo abbiamo fatto oggi, legandola alla festività di Santa Lucia, perché è sentita come vocazione, come devozione qua a Faicchio, ma soprattutto perché anche la leggenda narra che questa ragazza, questa santa, nella notte più lunga dell'anno, distribuiva donna ai bambini. E quindi abbiamo pensato di legare questa festività religiosa in collaborazione con le parrocchie e ringrazio Don Saverio, Don Raffaele, con le associazioni, abbiamo detto l'Istituto Comprensivo, l'Istituto Tecnico per il Turismo. Abbiamo messo tutta una comunità insieme ed è questo il risultato, una piazza che si è riempita di bambini, di genitori che festeggiano questo momento natalizio. riusciamo a degustare quella che è la vocazione del nostro territorio, ma soprattutto, ecco, cogliamo l'unità della comunità che forse per un'amministrazione, per un sindaco, è l'obiettivo più caro. Seguora la pagina sportiva sarà Maurizio Mariani ad arbitrare l'anticipo di sabato ore 15 tra Inter e Udinese, mentre Torino-Napoli sarà diretta da Paolo Silvio Mazzoleni, l'ultimo degli anticipi di Serie A di sabato. Roma-Cagliari sarà arbitrata da Antonio D'Amato, per Bologna-Juva in programma domenica alle 15 è stato designato Luca Banti. Il posticipo, Atalanta-Laccio, è stato affidato a Massimiliano Irrati e ricordiamo anche che Benevento-Spal sarà diretta da Pasqua. A Torino vogliamo fare i punti e ripartire per riprendere la nostra strada al vertice. Amadou Diavarà esprime i propositi per la trasferta di sabato e analizza il momento azzurro. Sabato avremo un match durissimo contro una squadra forte, però vogliamo fare una grande prestazione per dimostrare il nostro vero valore. Allenamento pomeridiano per il Benevento Calcio nella settimana di lavoro che porterà il match casalingo contro gli Estensi. I giallorossi continuano la preparazione sul rettangolo verde di Paduli. Il CONI Campania consegna le stelle al merito, la tradizionale consegna al maschio angioino di Napoli. E' stata assegnata al terzino del Napoli Fonsi Goulam, la cittadinanza sportiva onoraria del CONI, per quanto fatto negli ultimi anni per la città in Maia Azzurra. Goulam, assente alla serata di premiazione che si è tenuta nella sala dei baroni del maschio angioino, dove sono state assegnate stelle e medaglie al merito sportivo, con le palme al merito tecnico per l'anno sportivo 2016-2017, e il quarto sportivo a riceverla, dopo che negli anni scorsi era stata assegnata all'ex tecnico del Napoli Rafa Benitez e al capitano azzurro Mare Kamsik. Tanti i premiati provenienti dalle diverse federazioni sportive sparse sul territorio, che ogni anno superano gli ostacoli della burocrazia per permettere agli atleti e ai tecnici napoletani di eccellere in giro per il territorio. La serata, che ha visto anche una speciale premiazione per le società Cuore Napoli Basket e Cessport Italia, entrambe promosse in serie A2 nella passata stagione, rispettivamente nella palla a canistro e nella palla a nuoto, ha poi visto la consegna della fascia tricolore ai diversi ex olimpionici napoletani, che saranno ambasciatori per le prossime universiadi. Ascoltiamo Sergio Roncelli, presidente del CONI Campania, e Raimondo Pasquino, presidente dell'Agenzia regionale delle universiadi. Le stelle sono le massime onorificenze del CONI, e questa, e lo dirò anche dopo, è l'unica occasione in cui vengono premiati dirigenti tecnici, gli atleti sono abituati ad essere premiati dovunque e dappertutto, ma questo è l'unico appuntamento dove si premiano i tecnici e i dirigenti, che poi sono alla base di tutte le nostre vittorie. Dietro alle grandi vittorie ci sono sempre grandi tecnici e grandi dirigenti. Per quanto riguarda la cittadinanza onoraria, dopo Benitez, Mara Kamsik, Marius Perez, abbiamo scelto Goulam, perché lui l'ha detto chiaramente, sono fiero di essere napoletano e di rappresentare Napoli e la sua bellezza, i suoi colori, e quindi solo queste affermazioni dette col cuore meritano di essere premiate. Questa regione ha tanti atleti e tanti dirigenti che sono molto bravi, molto capaci, che meritano l'attenzione di tutti, del pubblico, dei cittadini, della classe politica che amministra la regione, che amministra la città, per fare in modo che tutti gli eventi possibili e immaginabili trovino in questi dirigenti, in questi atleti, i riferimenti giusti e corretti, come giusto che sia. La protezione civile della regione Campania ha diramato un avviso di criticità idrogeologica di colore arancione, valevole a partire dalle 12 di venerdì e fino alla stessa ora di sabato. L'allerta riguarda alcune zone del territorio, in particolare la Piana Campana, Napoli, le isole, l'area Vesuviana, l'Alto Volturno e il Matese, la penisola Sorrentino-Amalfitana, i monti di Sarno, i monti Picentini, su tutta la campagna venti localmente forti, con raffiche nei temporali e mare localmente agitato. Era questa l'ultima notizia, vi lascio proprio in compagnia delle prisioni del tempo e con il resto della nostra programmazione. Grazie dell'attenzione. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Il giorno invece prevediamo fino a 14 gradi al nord, fino a 17 gradi al centro e punte di 19 gradi al sud.